Un breve riassunto sulla ragione per cui siamo arrivati a questo punto nasce da una sentenza della Corte di Giustizia europea che è molto complessa, molto articolata e probabilmente non è stata, lo dico a chiare lettere, ben compresa o ben eletta. In altre parole questa sentenza, che è arrivata in francese, oltre a ribadire il principio che è compito degli stati definire il concetto di stati sicuri e di individuare quelli che sono tali, pone alla fine delle condizioni nel momento in cui la giurisdizione di un paese, un giudice, intenda dare una definizione diversa dello Stato sicuro in relazione a casi specifici di determinate persone. La Corte dice che debbono che i giudici, in questo caso gli italiani, anche se questa vicenda complessa riguardava una questione di tutt'altro settore che riguardava la Moldavia e i rapporti territoriali con una fetta di quel paese, l'importante, ecco, il nocciolo di questa sentenza, vi dico sono i punti 87, 88, 89 e 90 che sono sempre stati trascurati, probabilmente nessuno li ha letti, è che il giudice deve ex nunco, cioè nel momento in cui si pronuncia dare una apprezzazione, si dice, in maniera esaustiva e ensuite completa e quindi completa, dans les cas échéants, cioè nel caso di specie, nel caso simbolo, delle ragioni per cui per quel determinato individuo che chiede la protezione internazionale, quel determinato paese non è ritenuto sicuro. Ora io vi invito a leggere le motivazioni dei decreti che sono stati in questi giorni oggetto di riflessione, vedere se siano stati rispettati i criteri della Corte, indicati espressamente della Corte che dicono che appunto occorre dare una motivazione esauriente, esaustiva e completa, dans les cas échéants, cioè nel caso di specie, perché quella determinata persona sia in situazione di pericolo laddove ritornasse nel suo paese di origine, che in relazione alle condizioni di quella persona non è ritenuto sicuro. Grazie. Grazie. Grazie.